Credo che in questo momento sia addirittura difficile ricucire il rapporto, quindi non penso proprio che la relazione, anzi sono sicuro che la relazione sia arrivata a un punto di fine. La parte del passato per me è e rimarrà forse dieci giorni in più uscire, venire da me, chiudere la situazione e poi andare ad Alessio, quello me lo meritavo, solo quello. L'unica cosa che ho da recriminare a lei ed è proprio per questo che dico non è lucida, non è la persona che conosco io. So che lei ha chiesto comunque di incontrarci per un chiarimento, probabilmente in questa situazione mi rendo conto di essere io quello più immaturo e non pronto, perché la persona che ho di fronte, che ho visto, non è la persona che conosco io, quindi per me sarebbe incontrare una persona estranea. Poi è una persona che mi ha fatto troppo male, una persona che non... le auguro tutto il bene del mondo, però non vedo perché noi ci dobbiamo vedere. Non me l'aspettavo, lo vedo molto colpito, lo vedo addolorato, vedo il dolore nel suo volto, mi dispiace. Io comunque vorrei un confronto con lui, perché mi pare comunque una cosa matura da fare in ogni caso.